SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi parleremo di campionati italiani individuali di sci alpinismo, parleremo poi della chiusura dell'iscrizione del Sella Ronda, di convocazioni in azzurro, di Valtellina-Aurobia e daremo uno sguardo alle gare estive con una gara di Sky Running più unica che rara. A soli sette giorni dall'assegnazione di titoli tricolori giovanili, sono andati in scena in Valle Aurina i campionati italiani individuali assoluti di sci alpinismo. Qui a Trionfare sono stati due vantellinesi, Robert Antonioli e Francesca Martinelli. Partiamo dalla gara Uomini, che ha visto la super sfida tra i due talenti del CS Esercito di Courmayeur, Michele Boscacci e Robert Antonioli. Loro sono stati a dare fuoco alle polveri, loro sono stati in fuga dal primo all'ultimo metro. Sull'ultima discesa, come diciamo noi, Robert è sceso a bomba, giungendo per primo al traguardo e vincendo un importante titolo tricolore. Secondo posto per il compagno di Cleva e Michele Boscacci, terzo posto per un altro vantellinese, Lorenzo Olsner, che ha dimostrato davvero di esserci battendo sul finale l'idolo di casa Manfred Reichhager. Gara vera anche al femminile, con il successo dell'intramontabile Francesca Martinelli, e la regina dello sci alpinismo italiano e internazionale ha infatti conquistato l'ennesimo titolo tricolore sulla trentina Elena Nicolini e sulla bellunese Martina Balmassoi. Ma proprio per quanto riguarda le gare tricolori, sentiamo le impressioni a caldo dei vincitori. Un plauso all'organizzazione che ha fatto un percorso veramente bello e un merito va anche alla neve che era veramente bella, soprattutto nelle discese, neve farinosa, neve fresca, veramente sci alpinistica. E' un plauso ai miei compagni di gara che ci hanno dato dentro fino alla fine, soprattutto il mio compagno di squadra, Boscacci, che praticamente abbiamo fatto la gara assieme, sembrava di essere al Pierramenta, una gara a coppie. Come ritorno arrivo a dire io, per fortuna che ci sono le discese. Le gare si vincono e si perdono le discese. Lui l'ha vinta e io l'ho persa, però sono contento così. Oggi stavo bene in salita e fino a praticamente alla fine l'ultima discesa mi è stata fatale. Però, ripeto, sono contento. Ha vinto il mio compagno di squadra, percorso spettacolare, una gran gara. Sembrava di essere in una gara a coppie. La sono giocata qua alla fine, diciamo che ho corso un po' in difesa, nel senso che qua i giovinasti ormai vanno come delle saette. Ho cercato di limitare un po' i danni, ho fatto corsa su Manni e poi alla fine l'ho spuntata qua. Sono contento così. Nella prima salita eravamo un po' tutte assieme. Io ho provato il percorso ieri, sapevo che poi la seconda era tosta come salita, per cui ho cercato di non spendere troppo nella prima. Siamo rimaste un po' lì. Poi quando ho visto che stavo bene ho provato nella seconda a cambiare marcia. Sono riuscita ad allungare e poi ho più o meno sempre mantenuto il vantaggio e sono riuscita a rimanere davanti fino all'arrivo. In base ai risponsi delle gare tricolori, in base ai risultati delle prove di inizio stagione, i tecnici azzurri hanno anche stilato la lista dei convocati che saranno presenti alla gara di Verbier, prima tappa di Coppa del Mondo. Alcune new entry importanti come quelle di Filippo Barazzuol, Martina Valmassoi, Martina De Silvestro, Luca Pfeiffer e Dereca Rodigari. Questi i nomi nuovi della squadra azzurra per la stagione 2014. Alcuni anni fa i puristi dello sci alpinismo storcevano il naso sentendo parlare di gare in notturna, sentendo parlare di gare in pista. Invece, numeri alla mano, il Sella Ronda si conferma gara a calda dell'inverno. Sono state chiuse le iscrizioni, sono state chiuse a tempo di record, nonostante alcuni disguidi, perché la voglia di sella era davvero molta, tanto da mandare in tilt i server del comitato organizzatore. 500 squadre, 42 chilometri, 2.700 metri di dislivello positivo attraverso dei passi mitici quali Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi. Partenza e arrivo nella suggestiva cornice di Canazzei. E atleti che arrivano da praticamente ogni parte del mondo. Austria, Germania, Svizzera, Slovenia, Polonia, Spagna, Svezia, Rambetania e poi ancora America-Canada, questo è il Sella Ronda, una gara mitica, una gara che si correrà venerdì 21 febbraio, una gara destinata ancora una volta ad entrare nella leggenda. Questo fine settimana, mentre gli azzurri di Nicola Invernizzi e Oscar Angeloni saranno impegnati a verbiè nella prima tappa di Coppa del Mondo, con due gare, la prova individuale e quella vertical, in Valtellina, sulle sponde del Meriggio, andrà in scena l'ennesima tappa di Coppa Italia Trofeo Scarpa. Una gara mitica, la Valtellina-Aurobie, gara che anni addietro è stata forse una delle tappe più belle anche del circuito di Coppa del Mondo. Dietro le quinte è la polisportiva Albosaggia, che, strezzando l'occhio al settore giovanile, proporrà questa gara anche per le giovani leve, ovvero Junior e Cadetti, con una tappa di Coppa Alpi Centrali. A presentarci la gara è il numero uno della polisportiva di Albosaggia, Franco Parolo. Quest'anno la copertura in quota è assolutamente eccezionale. Questo nuovo porto di neve fresca odierna ci consentirà di sviluppare ancora un tracciato bellissimo, con neve bellissima, con discese mozzafiate e neve fresca, cosa che naturalmente agli altri diritti mi piacciono molto. Beh, gli spazzaneve in azione, i tracciatori stanno lavorando, diciamo che siete pronti? Noi, certo, siamo pronti, siamo pronti per un'altra grande giornata di sport. Vivo lo sport, vivo il suorpinismo. Noi ci siamo. Come lo scorso settimana diamo un occhio anche all'estate. Diamo un occhio all'estate con le gare di corsa, con lo Skyrunning. E lo facciamo dando spazio a una gara mitica, una gara che in poche edizioni è riuscita a entrare nel cuore dei lecchesi e non solo. Bruciando sempre i pettorali a disposizione, la Rese Gap quest'anno ha voluto davvero esagerare. Passata da 500 a 800 pettorali. E pensate che in solo due settimane nel periodo natalizio di apertura e iscrizioni sono già volati 280 iscrizioni. Ma qual è il fascino della Rese Gap? 1.800 metri di salita, altrettanti di discesa, 24 chilometri, partenza in piazza Cermenati, giro di boa in una montagna mitica come il Resegone, il tutto in arrivo, orario aperitivo a Lecco. Il guanto di sfida è stato lanciato dai ragazzi di Due Slow. Ma noi siamo sicuro che anche quest'anno 800 pettorali non saranno forse sufficienti per assecondare questa voglia di Rese Gap. Anche per quest'oggi è davvero tutto. Come al solito, veloci i cambi e giù a bomba in discesa.